ciao a tutti per questo nuovo tutorial andiamo a vedere come suonare un brano storico degli spandavallet through the body case canzone per chitarra acustica che dobbiamo suonare con le dita quindi tecnica finger style ma nulla scegliate anche di poter utilizzare il plettro però rimane un po più scomodo proprio perché hanno questo arpeggio molto veloce quindi meglio suonarlo come l'originale appunto con le dita quindi sendo abbastanza veloce lo suonerò a velocità un po più lenta diciamo che questo è un brano che si può dividere in due parti nella prima parte abbiamo l'arpeggio mentre nella seconda parte abbiamo la chitarra ritmica quindi dal ponte dal bridge in poi ed è proprio su questa seconda parte che mi sono un po impegnato di più diciamo nella trascrizione visto che nella prima parte l'arpeggio ho trovato diverso materiale e anche ben fatto se l'ho fatto qualche ritocco quella però nel complesso era ben fatta la trascrizione quindi vi ricordo che la tab che mostro durante il tutorial potete anche rivederla e scaricarla sul mio blog trovate qui sotto la descrizione del video il link bene adesso iniziamo ma prima vi ricordo se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al mio canale fatto ok adesso possiamo iniziare vai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi... Vediamo tutto l'accompagnamento insieme alla tab. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.